Siamo con Daniele, il migliore in campo di questa partita, tra Real Miami e Relatico Smistamento. Allora, partita difficile, siete andando in vantaggio, poi avete subito il gol, però alla fine siete riusciti a portare la partita a casa vostra. Un commento? Sì, è stata una partita tosta, sin dall'inizio abbiamo preso il vantaggio all'inizio, però poi ce l'hanno rimontata e poi alla fine siamo stati bravi a chiuderla. Un prezzo e un difetto, secondo te, della tua squadra? Sicuramente oggi abbiamo sfruttato bene il campo e infatti tutti e tre i gol sono arrivati dalle fasce e come difetto invece bisogna correre e essere più grintosi dal primo all'ultimo minuto perché non si molla mai. Grazie e in bocca al lupo.